All'olive Salami naturale Salami naturale Fabricato con prosciutto Uno salami di prosciutto Solo costa 20 euro Uno filetto di maiale Regalo Uno ricoperto con pepe nero Regalo Uno naturale Sempre regalo Uno cipiato Un altro regalo Un altro regalo Tutti salami 20 euro No Ed. Numero Tornato Ciao Grande Il regalo naturale, Lenzio Roccuccio, con scelta 4 bis, per anche l'ambiente, ha migliorato il zinghiale. Il zinghiale è buono. Per aiuto! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.